Il presidente della regione toscana Enrico Rossi dal palco dell'Assemblea di Confindustria Firenze al Teatro dell'Opera nel capoluogo toscano ha lanciato al governo la proposta di creare un tavolo comune per far partire il prima possibile le grandi opere pubbliche e infrastrutturali nella regione. In cima alla lista in Toscana ci sono il sottoattraversamento ferroviario di Firenze, le terze corsie sulla 1 e sulla 11 e l'adeguamento dell'aeroporto Vespucci. Rossi ha detto di aver già incontrato il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli e che i punti di convergenza ci sono come sulla messa in sicurezza della Tirrenica e sul porto di Livorno. Se loro su questo daranno dal loro ruolo sempre più importante il loro contributo sono sicuro che avranno anche apprezzamento da parte dei cittadini non solo da parte degli imprenditori. Vi assicuro che i sondaggi e tutte le analisi fatte dicono che la grande maggioranza dei cittadini è favorevole a che le infrastrutture, così come abbiamo delineato, abbiano a partire quanto prima e a realizzarsi. Davanti alla platea degli imprenditori il presidente ha anche chiesto all'esecutivo di investire maggiori risorse in lotta alla povertà, a ricerca e sui centri per l'impiego per renderli in naturale punto d'incontro tra domanda e offerta di lavoro. E poi si è detto contrario al ritiro delle aziende pubbliche da Confindustria proponendo, se l'associazione lo vorrà, l'ingresso delle aziende sanitarie toscane.